Ciao, io mi chiamo Marco Pulvani e da circa 5 anni lavoro per Action Aid Italia, associazione in cui mi occupo prevalentemente di organizzare e promuovere processi partecipativi sulle politiche pubbliche, ma anche percorsi di coprogettazione e coprogrammazione di servizi di welfare comunitario, prevalentemente in aree marginali, urbane e periurbane, nelle cosiddette aree interne e in alcune aree colpite da recenti sismi in Italia. Il mio personale impegno e quello della mia organizzazione nel promuovere i principi del governo aperto consiste essenzialmente in questo, nel creare animali spazi di partecipazione democratica per permettere alle persone e alle comunità locali di contribuire alla definizione delle politiche che le riguardano. Ma poiché sappiamo che la partecipazione per essere di qualità ha bisogno di informazione, cioè ha bisogno che i cittadini e le cittadine abbiano accesso ai dati alla base delle politiche pubbliche, un altro ambito di azione essenziale della mia organizzazione in questo campo consiste nel promuovere politiche che favoriscono l'accesso sulla fruizione dei dati della pubblica amministrazione. Per fare questo ad esempio recentemente insieme ad alcune associazioni come Cittadinanza Attiva e Lega Ambiente abbiamo promosso e animiamo l'osservatorio civico PNRR, una rete di oltre 40 associazioni unite dall'intento di monitorare la corretta applicazione dei progetti e delle politiche connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel contesto dell'osservatorio ed in collaborazione con alcune associazioni che vi aderiscono e che aderiscono tra l'altro anche alla community OGP come Parlamento Watch, Moniton o Think Tank Period, abbiamo organizzato e organizzeremo anche in futuro su alcuni territori delle scuole di monitoraggio, cioè sostanzialmente dei percorsi formativi che hanno l'obiettivo di fornire alle associazioni locali la conoscenza degli strumenti necessari per controllare la corretta applicazione dei progetti PNRR che arriveranno sui loro territori. Ho accettato di rappresentare la mia organizzazione nel forum multistakeholder perché lo ritengo un luogo fondamentale in cui portare avanti il dialogo tra le organizzazioni della società civile come la mia e le amministrazioni pubbliche, cioè in sostanza un luogo di confronto in cui il terzo settore e le istituzioni possono collaborare per implementare le politiche pubbliche sui temi dell'open government che a noi stanno particolarmente a cuore, come detto prima appunto la promozione di spazi partecipativi e deliberativi e di politiche che favoriscono l'accesso e la fruizione dei dati della pubblica amministrazione. Dalla mia partecipazione al forum multistakeholder pertanto mi aspetto questo, cioè di avviare un dialogo strutturato con le amministrazioni pubbliche per la promozione di politiche ispirate ai principi dell'open government, ma anche di consolidare il nostro network con associazioni e pubbliche amministrazioni interessate a migliorare la trasparenza e l'accountability delle istituzioni italiane.